Cosa sia esattamente accaduto la scorsa notte lo potranno chiarire solo le indagini della polizia locale di Treviso. Di fatto c'è una panchina nella nuovissima piazza Santa Maria dei Battuti gravemente danneggiata. L'entità del danno lascia supporre che ci sia stato un violento impatto, forse da parte di un'auto. Questa mattina la panchina è stata subito tolta dai tecnici del comune per essere riparata o sostituita. Durante il giorno la piazza è presidiata dagli agenti della polizia locale. Il fatto che il tutto si sia consumato di notte non ha però permesso di identificare i responsabili del danneggiamento. Per questo, fanno sapere da Cassugana, è già stata predisposta l'installazione di una telecamera brandeggiabile che monitora il sito 24 ore su 24. Si tratta di uno strumento fondamentale per la polizia locale, sarà infatti collegata direttamente alla centrale operativa e da lì gli agenti potranno direzionarla per controllare ogni angolo della piazza. Non solo, la telecamera brandeggiabile infatti mantiene le registrazioni per più giorni ed è quindi consultabile anche a posteriori per identificare, ad esempio, soggetti che abbiano commesso eventuali danni o reati.